Alla luce del maltempo e degli eventi drammatici che hanno messo in ginocchio l'Abruzzo, l'esponente politico del centro-sinistra di San Salvo, Gabriele Marchese, ha scritto una lettera aperta al presidente della regione Luciano D'Alfonso. La pesante nevicata dei giorni passati, unita alle scosse di terremoto, hanno messo a dura prova sia i centri sulla costa adriatica che la parte più appenninica. Il maltempo però ha mostrato le debolezze della regione, ha fatto assistere alla fragilità e vulnerabilità del territorio, dovuto essenzialmente a suo dire ad una inadeguata dotazione infrastrutturale e alla mancanza di una moderna rete di servizi. Il problema non è dovuto solo al verir meno dell'energia elettrica o alle responsabilità di Enel, ma al funzionamento complessivo del sistema regione, la dotazione infrastrutturale, la programmazione degli aiuti e dei soccorsi alle popolazioni. Alla luce delle ultime emergenze, l'ex primo cittadino di San Salvo, rivolgendosi al governatore D'Alfonso, ritiene che il masterplan Abruzzo vada ripensato, dando priorità a quegli investimenti che rispondano alle esigenze di solidità e sicurezza. Marchese, in conclusione, ritiene opportuno aprire una trattativa con il Governo nazionale, affinché assuma impegni certi per l'ammodernamento infrastrutturale dell'intero mezzogiorno.